Leo. Chi è zia Rosa? domandò Hazel. Leo non aveva voglia di parlarne. Le parole di Nemesi gli ronzavano ancora nelle orecchie. La cintura degli attrezzi sembrava più pesante da quando ci aveva infilato il biscotto. Le sue tasche potevano contenere qualsiasi cosa senza aumentarne il peso di un grammo e conservavano le cose più fragili senza romperle. Eppure a Leo sembrava quasi che la presenza del biscotto stesse appesantendo la cintura nell'attesa di essere aperto. È una lunga storia. Ti dico solo che dopo la morte di mia madre mi ha abbandonato lasciandomi ai servizi sociali. Mi dispiace. E tu? Leo era ansioso di cambiare argomento. Cos'è che ha detto Nemesi a proposito di tuo fratello? Hazel sbattere palpebre come se avesse qualcosa negli occhi. Nico. È stato lui a trovarmi negli inferi. Mi ha riportato nel mondo mortale e ha convinto i romani del Campo Giove ad accettarmi. È a lui che devo la mia seconda possibilità. Se Nemesi ha ragione, Nico è in pericolo. Io devo aiutarlo. Certo, rispose Leo, anche se l'idea lo metteva un po' a disagio. Dubitava che la dea della vendetta dispensasse consigli per pura bontà d'animo. Però il discorso dei sei giorni di vita che restano Nico e di Roma che sarà distrutta ha idea di cosa intendesse. No, ammise Hazel, ma temo che qualunque cosa stesse per dire decise di tenerla per sé. Si arrampicò su una delle rocce più grandi, per avere una visuale migliore. Leo cercò di seguirla, ma perse l'equilibrio. Hazel lo afferrò per la mano e lo tirò su. Così si ritrovarono insieme in cima al masso, mano nella mano, faccia a faccia. L'oro non è un problema per me, aveva detto la figlia di Plutone. Guardando gli occhi di Hazel, che scintillavano come oro, Leo non ebbe più dubbi su quell'affermazione. Si chiese chi fosse Sammy. Aveva il vago e fastidioso sospetto di saperlo, solo che non riusciva a collocare quel nome di preciso. Chiunque fosse, era fortunato se Hazel teneva a lui. Eh, grazie. Le lasciò la mano, ma erano ancora così vicini che percepiva il calore del suo fiato. Non sembrava per niente una morta. «Mentre parlavamo con Nemesi, ho visto delle fiamme», disse Hazel con un certo imbarazzo. «Sulle tue mani». «Sì, è un potere di Efesto. Di solito riesco a tenerlo sotto controllo». «Oh!» Hazel si portò una mano sulla camicia di jeans in un gesto protettivo come per proclamare un giuramento solenne. Leo ebbe la sensazione che avrebbe voluto scansarsi, solo che il masso era troppo piccolo. «Fantastico», pensò. «Un'altra persona a cui faccio paura». Si mise a scrutare l'isola. La costa era solo a poche centinaia di metri di distanza. A separarli dal mare c'erano solo dune e scogli, ma niente che somigliasse a uno stagno riflettente. «Sarai sempre l'escluso, la settima ruota del carro», gli aveva detto Nemesi. «Non troverai posto fra i tuoi fratelli». Tanto valeva versargli direttamente dell'acido nelle orecchie. Leo non aveva bisogno che qualcuno gli ricordasse che era un intruso. Aveva passato gli ultimi mesi al bunker 9 del campo mezzosangue a lavorare sulla nave, mentre gli amici si allenavano e pranzavano insieme e si divertivano a caccia alla bandiera e vincevano premi. Perfino i suoi due migliori amici, Piper e Jason, lo escludevano spesso da quando si erano messi insieme. Il suo unico altro amico, il Drago Festus, si era ridotto a una polena quando il disco di controllo era andato distrutto durante l'ultima missione. Leo non aveva le capacità tecniche per ripararlo. La settima ruota. Conosceva l'espressione «l'ultima ruota del carro», riferita a chi in gruppo conta meno di tutti. Ma la settima ruota? Doveva essere perfino peggio. Aveva sperato che quella nuova missione per lui rappresentasse un nuovo inizio. Tutto il lavoro fatto sul Largo 2 sarebbe stato ripagato. Avrebbe avuto sei buoni amici che lo avrebbero ammirato e apprezzato e insieme sarebbero salpati alla luce del tramonto per combattere i giganti. E forse segretamente aveva sperato perfino di trovare una ragazza. Come no? Fatti due conti, Leo. Si rimproverò. Nemesi aveva ragione. Sì, era parte di un gruppo di sette, ma era ancora isolato. Aveva bombardato i romani e procurato agli amici nient'altro che guai. Non troverai posto fra i tuoi fratelli. Non prendertela troppo per quello che ha detto Nemesi, gli disse Hazel in tono gentile. Leo si accigliò. E se fosse vero? È la dea della vendetta. Forse dalla nostra parte, forse no. In ogni caso, esiste per suscitare rancore. Magari Leo avesse potuto liquidare così facilmente quello che provava. Non ci riusciva. Però non era certo colpa di Hazel. Dovremmo andare. Nemesi ci ha suggerito di finire prima che faccia buio. Che avrà voluto dire? La figlia di Plutone lanciò un'occhiata al sole che aveva appena iniziato a lambire l'orizzonte. E chi è il ragazzo maledetto di cui ha parlato? Sotto di loro una voce ripetè «ragazzo maledetto di cui ha parlato». All'inizio Leo non vide nessuno. Poi i suoi occhi misero a fuoco e si rese conto che c'era una giovane donna a pochi metri dalla base del masso. Indossava una tunica greca della stessa tonalità delle rocce. I suoi capelli sottili erano di un colore indefinito tra il marrone, il biondo e il grigio, tanto da confondersi con l'erba secca. Non era invisibile, non in senso stretto, ma si mimetizzava quasi perfettamente con l'ambiente, almeno finché non si muoveva. E anche allora Leo faticò un poco a individuarla. Aveva un viso carino, anche se non indimenticabile. In effetti, ogni volta che lei sbatteva le palpebre, Leo non riusciva più a ricordarsi il suo aspetto e doveva concentrarsi per ritrovarla. «Ciao, tu chi sei?» chiese Hazel. «Tu chi sei?» replicò la ragazza. Aveva un tono annoiato, come se fosse stanca di rispondere a quella domanda. Hazel e Leo si scambiarono uno sguardo. Con il casino semidivino in corso non c'era da fidarsi. Le probabilità che si trattasse di guai erano altissime, e una ragazza mimetizzata con i colori della terra non era proprio il genere di cosa con cui Leo aveva voglia di avere a che fare in quel momento. «Sei tu il ragazzo maledetto di cui parlava Nemesi?» chiese il figlio di Efesto. «Ma si corresse subito?» «Certo che no. Sei una ragazza!» «Sei una ragazza», replicò lei. «Come scusa?» «Come scusa?» «Ripeti tutto quello che...» Leo si fermò. «Hazel, non c'era un mito che parlava di una ragazza che ripeteva tutto?» Hazel annui. «Ecco!» «Ecco», confermò la ragazza. Si mosse e i suoi vestiti cambiarono con il paesaggio. I suoi occhi erano del colore dell'acqua salata. Leo cercò di memorizzare in qualche modo i suoi lineamenti, ma non ci riuscì. «Non ricordo bene il mito. La tua maledizione è ripetere sempre l'ultima cosa che senti?» «L'ultima cosa che senti», disse Eco. «Poverina», commentò Hazel. «Se ricordo bene, è stata una dea farlo». «È stata una dea farlo», confermò Eco. «Ma non è una cosa successa a migliaia di anni fa?» Leo si grattò la testa. «Ah, sei una dei mortali tornata in vita attraverso le porte della morte? Vorrei smettere di incontrare solo gente morta». «Gente morta», ripeté Eco in tonno di rimprovero. Leo si rese conto che Hazel teneva lo sguardo basso. «Scusa», borbottò. «Non intendevo in quel senso». «In quel senso», Eco indicò verso la costa dell'isola. «Vuoi mostrarci qualcosa?» Hazel scese dal masso, subito seguita da Leo. Perfino da vicino Eco era difficile da individuare. In effetti, più la si guardava, più sembrava diventare invisibile. «Sei sicura di essere reale?» le chiese Leo. «Cioè, in carne e ossa?» «In carne e ossa». Ecco gli toccò il viso, facendolo trassalire. Aveva le dita calde. «Devi ripetere proprio tutto?» «Proprio tutto». Leo non riuscì a trattenere un sorriso. «Potrebbe anche essere divertente». «Divertente», disse lei a Franta. «Elefanti blu!» «Elefanti blu!» «Baciami, stupido!» «Stupido!» «Ehi!» «Ehi!» «Leo, smettila!» ordinò Hazel. «Smettila!» concordò Eco. «E va bene», acconsentì Leo, anche se non era facile resistere alla tentazione. Non capitava tutti i giorni di incontrare qualcuno con il ripetitore incorporato. «Allora, che cosa sta indicando? Ti serve il nostro aiuto?» «Aiuto», confermò Eco. Li supplicò a gesti di andare con lei e corse giù per la discesa. Leo riusciva a seguirla con lo sguardo solo grazie al movimento dell'erba e allo scintillio del vestito, che cambiava colore per mimetizzarsi con le rocce. «Meglio che ci sbrighiamo», suggerì Hazel, «altrimenti la perdiamo di vista». Alla fine trovarono il problema. Sempre che una folla di belle ragazze potesse dirsi un problema, Eccoli condusse in un prato erboso a forma di cratere con un piccolo stagno al centro. Riunite intorno al bordo dell'acqua, c'erano diverse dozzine di ninfe. O almeno Leo pensava che fossero ninfe. Come quelle del campo mezzosangue, indossavano vesti delicate e sottili, erano scalze e avevano lineamenti da elfo, con la carnagione lievemente verdognola. Il figlio di Efesto non capiva cosa stessero facendo, ma erano tutte assiepate intorno a un punto di fronte allo stagno e sgomitavano per vedere meglio. Diverse di loro tenevano in alto un cellulare con la fotocamera e cercavano di scattare una foto a qualcosa oltre le teste delle altre. Leo non aveva mai visto delle ninfe con il telefonino. «Cosa stavano guardando? un cadavere? Ma allora perché saltellavano e ridacchiavano eccitate?» «Cosa stanno guardando?» domandò. «Stanno guardando», sospirò Echo. «C'è un solo modo per scoprirlo». Hazel si fece avanti sicura e cominciò a sgomitare. «Scusate, permesso?» «Ehi!» si lamentò una ninfa. «C'eravamo prima noi!» «Sì!» concordò un'altra, tirando su col naso. «Aveva grandi cuori rossi dipinti sulle guance. E poi lui non si interesserebbe mai a una come te?» «Emergenza semidivina», intervenne Leo cercando di darsi un tono ufficiale. «Fate largo, grazie». Le ninfe brontolarono ma si scansarono un poco, rivelando un giovane inginocchiato ai margini dello stagno, intento a fissare l'acqua. Leo di solito non faceva molto caso all'aspetto degli altri ragazzi. Probabilmente dipendeva dal fatto che se ne andava in giro con Jason. Alto, biondo, virile. In pratica, tutto ciò che lui non sarebbe mai stato. Era abituato a non essere notato dalle ragazze, o perlomeno sapeva che non ne avrebbe mai conquistata una grazie al proprio aspetto. Si augurava che il carattere e il senso dell'umorismo lo aiutassero a raggiungere l'obiettivo un giorno, ma al momento non era ancora successo. Ad ogni modo, Leo non poteva non accorgersi che il tizio dello stagno apparteneva al genere dei super belli. Aveva il viso cesellato, con le labbra e gli occhi che sposavano la grazia femminile con la bellezza maschile. La fronte era incorniciata da folti capelli scuri. Era tra i 17 e i 20 anni e aveva la corporatura di un ballerino. Braccia lunghe e flessuose, gambe muscolose, una postura perfetta e un atteggiamento di calma regale. Indossava un paio di jeans e una semplice maglietta bianca, con un arco e una faretra legati sulla schiena. Ma era chiaro che quelle armi erano inutilizzate da un bel po'. Le frecce erano coperte di polvere. Un ragno aveva intessuto la tela sulla punta dell'arco. Avvicinandosi, Leo si rese conto che il volto del ragazzo aveva un'insolita sfumatura dorata. La luce del tramonto rimbalzava su una grande lastra piatta di bronzo celeste che giaceva sul fondo dello stagno, inondando di un caldo bagliore, i lineamenti di Mister Belloccio. Il ragazzo sembrava incantato dal proprio riflesso sul metallo. Hazel era rimasta senza fiato. «È uno schianto!» Intorno a lei, le ninfe approvarono con gridolini acuti e battimani. «È vero», mormorò il giovane in tono sognante, con lo sguardo ancora fisso nell'acqua. «Sono proprio uno schianto!» Una delle ninfe mostrò a Hazel lo schermo del proprio cellulare. «Il suo ultimo video su YouTube è stato cliccato un milione di volte in un'ora! E per metà delle volte ero io!» Le altre ninfe ridacchiarono. «Un video?» chiese Leo. «E che cosa fa nel video? Canta?» «No, stupido!» Lo rimproverò la ninfa. «Una volta era un principe, un grande cacciatore e non so che altro. Ma questo non conta. Ora è soltanto...» «Beh, guarda!» Gli mostrò il video. C'era esattamente quello che stavano vedendo nella vita reale. Il tizio che si fissava nello stagno. «È così sexy!» squittì un'altra ragazza. Sulla sua maglietta c'era scritto «Signora Narciso». «Narciso?» domandò Leo. «Narciso?» confermò neppure le ninfe l'avevano notata. «Oh no! Ancora tu?» La signora Narciso cercò di scansarla, ma aveva valutato male la sua posizione e finì col prendere a spintoni le altre ninfe. «Hai avuto la tua occasione, ecco!» disse la ninfa col telefonino. «E lui ti ha scaricata quattromila anni fa! Non sei minimamente alla sua altezza!» «Minimamente alla sua altezza!» ripetè Ecco con amarezza. «Aspetta!» Eisel aveva qualche problema a staccare gli occhi dal bellone, ma ci riuscì. «Che sta succedendo? Perché Ecco ci ha portati qui?» Una ninfa alzò gli occhi al cielo. Teneva in mano una penna per autografi e un poster sgualcito di Narciso. Ecco era una ninfa come noi moltissimo tempo fa, ma era una gran pettegola, non faceva altro che sparlare, bla bla bla, in continuazione. «A chi lo dici?» strepitò un'altra ninfa. «Cioè, non è una cosa insopportabile. Proprio l'altro giorno ho detto a Clopeia, sai quella che vive nel masso accanto al mio, le ho detto «Piantala di spettacolare o farei la fine di Ecco!» Clopeia è una tale linguaccia. Sapete che ha raccontato di quella ninfa delle nuvole e di quel satiro? «Verissimo!» commentò la ninfa del poster. Comunque, per punirla delle sue chiacchiere, era a maledetto Ecco, che ora riesce solo a ripetere le cose. «E questo ci sta più che bene, figurati!» Ma poi Ecco si è innamorata del nostro bellissimo Narciso. Come se lui potesse mai notarla. «Figuriamoci!» commentarono all'unisono le ninfe. «Ora si è messa in testa l'idea balzana che Narciso abbia bisogno di essere salvato!» aggiunse la signora Narciso. «Insomma, Ecco, ma perché non sparisci?» «Sparisci!» ringhiò lei in tutta risposta. «Quanto sono felice che Narciso sia tornato in vita!» disse una ninfa vestita di grigio. Si era scritta le parole Narciso più lei a lungo le braccia, con un pennarello nero. «Cioè, è il migliore! Ed è nel mio territorio!» «No, piantala!» la rimbeccò l'amica. «Sono io la ninfa dello stagno! Tu sei soltanto la ninfa della roccia!» «Beh, io sono la ninfa dell'erba!» protestò un'altra. «No, Narciso chiaramente è venuto qui perché adora i fiori selvatici!» sbottò un'altra ancora. «E quelli sono miei!» L'intero gruppo di ninfe cominciò a litigare, mentre Narciso continuava a fissare il lago ignorandole. «Buone!» gridò Leo. «Signore, state buone!» «Devo chiedere una cosa a Narciso!» Lentamente le ninfe si calmarono e ripresero a scattare foto. Leo si inginocchiò accanto al belloccio. «Allora, Narciso, come va?» «Ti puoi spostare?» replicò quello in tono distratto. «Stai rovinando la vista!» Leo guardò nell'acqua. Il proprio riflesso tremolante compariva accanto a quello di Narciso sulla lastra di bronzo sommersa. «In confronto a Narciso, sembrava un troll delle miniere», si disse, «ma non c'erano dubbi che il metallo fosse bronzo celeste, una lastra circolare di circa un metro e mezzo di diametro!» Leo non aveva idea di cosa ci facesse in quello stagno. Il bronzo celeste cadeva sulla terra nei posti più strani. Aveva sentito dire che nella maggior parte dei casi si trattava degli scarti delle varie officine del proprio divino genitore. Efesto perdeva la pazienza quando i progetti non venivano bene e gettava i resti nel mondo mortale. Quel pezzo avrebbe potuto essere lo scudo di un dio, ma non era venuto come si deve. Se Leo fosse riuscito a portarlo sulla nave, sarebbe stato sufficiente per le riparazioni. «Una vista fantastica!» esclamò. «Mi scanso subito, figurati. Ma se non la usi, non è che posso prendere quella lastra di bronzo?» «No», rispose Narciso. «È uno schianto! Amo quel ragazzo!» Leo si guardò intorno per vedere se le ninfe stessero ridendo. Doveva essere uno scherzo colossale, per forza! Ma quelle annuivano tutte svenevoli. Solo Hazel sembrava inorridita. Storceva il naso come se fosse giunta alla conclusione che Narciso era bello, sì, però puzzava. «Cavolo», commentò Leo rivolto a Narciso. «Ti rendi conto, vero, che stai guardando il tuo riflesso nell'acqua?» L'altro sospirò. «Sono così fantastico!» Distese una mano verso l'acqua, pieno di desiderio, ma non la sfiorò. «No, non posso incresparla. Non voglio rovinare l'immagine!» «Accidenti, quanto sono fantastico!» «Sì, certo», borbottò Leo. «Ma se io prendessi il bronzo, potresti ancora specchiarti nell'acqua. Oppure qui, se vuoi!» Infilò la mano nella cintura degli attrezzi e tirò fuori uno specchietto. «Facciamo a cambio!» Narciso con riluttanza prese lo specchietto e si ammirò nel riflesso. «Anche tu hai un mio ritratto!» «Come darti torto! Sono uno schianto!» Mise giù lo specchio e tornò a concentrarsi sullo stagno. «Grazie, ma ho un'immagine migliore!» «Il colore mi dona! Non credi?» «Oh, dèi sì!» strillò una ninfa. «Sposami, Narciso!» «No, sposa me!» gridò un'altra. «Sposa me, Narciso!» «No, me!» gridò un'altra ancora. «Mi fai un autografo sul poster?» «No, firmami la maglietta!» «No, scrivimi il tuo nome sulla fronte!» «No, firmami il...» «E basta!» sbottò Hazel. «E basta!» concordò Echo. Leo l'aveva di nuovo persa di vista, ma in quel momento si rese conto che era inginocchiata al fianco di Narciso e gli passava una mano davanti alla faccia per cercare di interromperne la concentrazione. Narciso nemmeno sbatte le palpebre. Il fan club delle ninfe cercò di scansare Hazel a spintoni, ma lei estrasse la spada da cavalleria e le costrinse a farsi indietro. «Vi volete svegliare?» urlò. «Non ti firmerà la spada!» si lamentò la ninfa del poster. «Non ti sposerà!» disse la ragazza del telefonino. «E non potete prendere il suo specchio di bronzo! È ciò che lo tiene qui!» «Siete tutte ridicole!» replicò Hazel. «È così pieno di sé! Come fa a piacervi uno così!» «Uno così!» sospirò Echo, continuando ad agitare la mano di fronte alla faccia di Narciso. Le altre sospirarono con lei. Il Vanesio annui. «Sono così affascinante!» «Narciso, ascolta!» Hazel teneva la spada pronta. «Ecco ci ha portati qui per aiutarti!» «Vero, Echo?» «Ecco», disse la ninfa. «Chi?» replicò Narciso. «L'unica ragazza a cui importa del tuo destino, a quanto pare!» rispose Hazel. «Ricordi la tua morte?» «Narciso, si accio!» «Io... no! Impossibile! Sono troppo importante per morire!» «Sei morto, sì!» insistette Hazel. «Ora mi ricordo la tua storia! È stata la dea Nemesi a maledirti, per via di tutti i cuori che hai infranto! Ti ha punito, facendoti innamorare del tuo riflesso!» «Oh, sì! Mi amo così tanto!» confermò Narciso. «E alla fine sei morto!» continuò Hazel. «Non so quale versione della storia sia vera. Alcuni dicono che sei annegato, altri che ti sei trasformato in un fiorecchino sull'acqua. Ecco, qual è quella giusta?» «Quella giusta?» ripete Echo sconsolata. «Non ha importanza! Il punto è che sei tornato in vita, amico! Hai una seconda possibilità!» affermò Leo. «Ecco cosa ci stava dicendo Nemesi! Puoi alzarti e vivere la tua vita!» «Ecco, sta cercando di salvarti! Oppure puoi restare qui a fissarti finché non morirai un'altra volta!» «Resta qui!» strillarono le ninfe. «Sposami prima di morire!» strepitò un'altra. Narciso scosse la testa. «Voi volete soltanto il mio riflesso! Non vi biasimo, ma non potete averlo! Appartiene a me!» Hazel sospirò esasperata. Lanciò un'occhiata al sole, che stava calando in fretta. Poi indicò con la spada il bordo del cratere. «Leo, possiamo scambiare due parole?» «Scusaci un attimo», disse il figlio di Efesto a Narciso. «Ecco, vuoi venire con noi?» «Venire con noi», confermò lei. Le ninfe si assieparono di nuovo intorno a Narciso e si misero a registrare altri video e a scattare altre foto. Eisel camminò finché non furono fuori portata d'orecchio. Nemesi aveva ragione. Alcuni semidei non riescono a cambiare la loro natura. Narciso resterà di nuovo lì fino alla morte. «No!» protestò Leo. «No!» concordò Ecco. «Ci serve quel bronzo», continuò il figlio di Efesto. «Se lo portiamo via, potremmo dare a Narciso un motivo per riprendersi. Ecco potrebbe avere la possibilità di salvarlo.» «La possibilità di salvarlo?» ripete Ecco con gratitudine. Eisel infilzò la spada nella sabbia. «E avremmo contro diverse dozzine di ninfe, oltre al fatto che forse Narciso lo sa ancora usare quell'arco.» Leo ci riflettè. Il sole era praticamente tramontato. Nemesi aveva accennato al fatto che Narciso si agitava col buio, forse perché non poteva più vedere il suo riflesso. Leo non voleva restare nei paraggi per scoprire cosa intendesse la dea per agitato. Aveva anche una certa esperienza con le folle di ninfe inferocite. E non aveva nessuna voglia di ripeterla. «Eisel, come funziona il tuo potere con i metalli preziosi?» chiese infine. «Riesci solo a individuarli o puoi anche evocarli?» La figlia di Plutone aggrottò la fronte. «A volte riesco a evocarli. Non ci ho mai provato con un pezzo di bronzo celeste così grosso. Forse potrei riuscire ad attirarlo a me attraverso la Terra, ma dovrei essere molto vicina. Ci vorrebbe un sacco di concentrazione e non riuscirei a farlo molto in fretta.» «In fretta?» l'ammonieco. Leo imprecò. Aveva sperato che Hazel riuscisse a teletrasportare il bronzo celeste sulla nave, a debita distanza. «E va bene!» esclamò. «Ci toccherà tentare qualcosa di rischioso. Hazel, che ne dici di provarci da qui? Fai affondare il bronzo nella sabbia e incanalalo verso di te. Poi afferralo e corri alla nave.» «Ma Narciso lo fissa di continuo?» obiettò Hazel. «Di continuo», le fece ecco la ninfa. «A questo ci penso io», replicò Leo, odiando già il suo piano. «Mi aiuterà Eco. Lo distrarremo noi.» «Lo distrarremo noi?» domandò Eco. «Ti spiego dopo», promise Leo. «Va bene?» La ninfa annuì. «Va bene.» «Fantastico! Ora speriamo solo di non morire.» «Fantastico!» 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 «Fantastic